Ciao a tutti! Oggi prepareremo il succo di frutta alle fragole. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa più un'ora per il raffreddamento in frigo. Gli ingredienti sono fragole, acqua, zucchero e succo di limone. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale lo zucchero e l'acqua. Iniziamo il bimbi per 10 minuti, 100 gradi, velocità 3. Aggiungiamo le fragole, il succo di limone, ed azioniamo il bimbi per 5 minuti, 100 gradi, velocità 1. Adesso andremo a frullare per un minuto a velocità 10. Filtriamo con un colino a maglie strette e riponiamolo in frigo per almeno un'ora prima di servire. Succo di frutta alle fragole. Grazie e alla prossima ricetta! Grazie a tutti!